Il suo cuore mi ama adesso di Paolo Risso. Nel diciottesimo secolo, quando il giansenismo con la sua asprezza e l'eccessiva severità allontanava le anime da Dio, Gesù rivela il suo cuore divino, sacrario di verità e di amore infinito a Santa Margherita Maria la Coc e, per mezzo di lei, a San Claudio la Colombier. Chiede di essere fatto conoscere alla Chiesa e al mondo come verità e amore, in modo che le anime siano attirate da lui, per contraccambiargli amore, per offrirgli riparazione dei peccati degli uomini, soprattutto dei consacrati. Professione di fede. Il culto al cuore di Gesù attraversa i secoli e giunge fino a noi raggiungendo vertici altissimi con il riconoscimento ufficiale della sua festa, 1856, da parte del beato Pio IX, con la sua consacrazione del mondo a lui per opera di Leone XIII nel giubileo 1899-1900, con le grandi encicliche Quas Primas 1925, Miserentissimus Deus 1928 di Pio XI, fino al culmine della Auretis Aquas in Gaudio 1956, in cui il venerabile Pio XII definisce la devozione al Sacro Cuore Maxima Professio Cattoliche Fidei. Grazie all'amore del cuore di Gesù si avrà una fioritura di santità nelle anime di vocazioni di nuove fondazioni. Il culto al cuore di Gesù è dedizione senza limiti alla sua adorabile persona che si manifesta a livello altissimo nelle anime sante nel tempo di ideologie molto negative. Al posto di lui, infatti, si pensa che bastino i valori umani a dare orientamento valido e nuovo al mondo. Si crede che la sapienza umana basti a risolvere ogni problema. L'uomo che diventa Dio per se stesso, quindi misura di tutte le cose, tacitamente o apertamente si vanta di non aver bisogno d'altri che di se stesso. Il ventesimo secolo, il nostro ventunesimo secolo, è il tempo delle immagini e delle idee veicolate dalle immagini nei moderni mezzi di comunicazione di massa, dai giornali alla tv a internet. Proprio nel 1898 Gesù, per mezzo della foto eccezionale scattata da Secondo Pia alla Sindone di Torino, aveva rivelato la sua immagine, il suo volto. Scrisse in proposito il beato cardinale il defonso Schuster, arcivescovo di Milano. La sacra scrittura, tante e tante volte, esprime il desiderio di contemplare il divino volto del Redentore e, fin dall'antichità, i padri e gli scrittori ecclesiastici si chiesero se esistesse alcun ritratto autentico di Gesù. La risposta negativa sembrava confermata dal fatto che, anche se tali ritratti contemporanei poterono rivelarsi autentici, come quello della Veronica, esse tuttavia non giunsero fino a noi. A questa lacuna della storia sembra invece abbia voluto supplire la Divina Providenza lasciandoci nella Santa Sindone di Torino le impronte del Corpo Santissimo del Redentore. In questi ultimi anni la fede e la scienza hanno scrutato accuratamente quel sacro lenzuolo e ne è venuto fuori, per così dire, un altro testo della Passione del Signore che mirabilmente conferma quello dei Santi Vangeli. Il volto di Gesù è stato poi argomento di studi speciali del maestro Giuseppe Brunner, fotografo pontificio, uno specialista del genere, il quale, dalle tracce della Sindone, con criteri assolutamente scientifici, ha derivato un ritratto del Salvatore che appare come una rivelazione. La Divina Maestà, la delicatezza del tipo semitico della regia stirpe di Davide, il dolore e l'amore soffusi in quei lineamenti, fanno sì che al semplice mirarli subito si dica con San Giovanni, il discepolo prediletto, Dominus Est, è il Signore. Dunque in questo secolo che si vanta di idee e di valori ed è pure il tempo delle immagini come mai prima era stato, Gesù, rivelato il suo cuore in tutta la sua altezza e profondità, rivela il suo volto. Non delle idee e dei valori, per quanto i gregi possano essere come fanno i professori, ma un volto, una persona viva, affascinante, avvincente. Non una sapienza soltanto umana, un agnosi, ma il cuore, il volto, la persona adorabile dell'uomo Dio. Non solo una spiritualità, non solo un ascesi, ma una vita a due, propone Gesù, una storia d'amore, un romanzo d'amore. Gesù è il singolo, il cuore di Gesù è il singolo, il volto di Gesù è il singolo, la persona adorabile di Gesù è il singolo, il culto al cuore di Gesù, al santo volto di Gesù è il culto, adorazione, amore, riparazione, dedizione, impetrazione alla sua persona. Una realtà concreta, visibile, palpabile. Gesù bambino, Gesù maestro, Gesù taumaturgo, Gesù martire e crocifisso, Gesù eucaristico, Gesù risorto, Gesù unico salvatore dell'uomo e del mondo, Gesù re. Eterno presente. Questa è la lieta notizia del cattolicesimo. Qualcuno dirà, le notizie oggi arrivano in tempo reale, mentre Gesù e il suo Vangelo sono invece del passato. Che cosa può dunque interessare agli uomini e ai giovani d'oggi una notizia di duemila anni fa? In verità, Gesù, il suo cuore, il suo volto, la sua opera, la sua persona non sono del passato, bensì sono di oggi, perché Gesù, l'uomo Dio, trascende tutti i tempi e tutti i luoghi. Essendo il figlio di Dio, è contemporaneo a ogni uomo in ogni tempo. Gesù arriva all'uomo e al giovane d'oggi, davvero in tempo reale. Gesù è nostro contemporaneo e noi siamo i contemporanei di Gesù. Il suo cuore mi ama adesso, il suo volto con il suo sguardo mi guarda adesso. Tutto nasce da questa contemporaneità tra Gesù e ciascuno di noi. Ogni conversione a Gesù, tutta la dedizione a Gesù che conduce dal peccato all'offerta di lui e per lui, la storia nuova a sua immagine e somiglianza si realizza perché Gesù è nostro contemporaneo. Diversamente saremo solo dei cultori di storia, dei memorialisti, non dei cristiani cattolici coinvolti con Gesù, maestro, amico, signore, sposo e vita dell'anima, nella più alta e supplime relazione di verità e di amore, di vita sopranaturale, di vita eterna. Le idee non salvano Satana invece non vuole questo. Satana non vuole la nostra contemporaneità con Gesù, dalla quale nasce l'intimità profonda con lui che, tolto il peccato, rende uno in lui per Dio, il Cristo teocentrismo che risolve tutto. Satana vuole ridurre il cattolicesimo a un'idea, un insieme di valori, anche validi, purché non ci sia Gesù di mezzo. Questo è il nuovo umanesimo, senza Dio e senza Cristo, che vuole essere il pensiero unico, dominante. Satana ha persino favorito nel nostro tempo il nascere e il dilagare di teologie senza Cristo, come già denunciava il cardinal Giuseppe Siri. Teologie che tendono solo ad adeguarsi alle mode di oggi, allontanandosi dalla verità del Vangelo predicato e diffuso dagli Apostoli e dalla parane tradizione della Chiesa, ed esaltando solo la sapienza umana come unica fonte di riconoscenza e di costruzione dell'uomo. Ecco l'agnosi, l'agnosi spuria. Satana, come dal primo istante della sua ribellione, quando fu precipitato nell'inferno, si batte contro Gesù Cristo e contro tutti coloro che promuovono la regalità di lui sulle anime e sulla storia. Satana preferisce le idee e i valori umani perché idee e valori lasciano l'uomo com'è nel peccato, nell'orgoglio, nell'impurità, nell'egoismo, nella superbia, nell'umana sapienza contrarie a Cristo. Idee e valori non redimono l'uomo né salvano l'uomo, non lo liberano dal peccato e dalla morte e non gli comunicano la vita soprannaturale della grazia santificante. Redentore oggi. Idee e valori, nonostante gli sforzi giganteschi dell'uomo, lasciano la società e la storia nel peccato che è essenzialmente il rifiuto di Dio e di colui che egli ha mandato come unico salvatore, Gesù Cristo. Invece Gesù, il suo cuore, le piaghe, sanguinanti e gloriose, il suo volto dolce e forte, sfigurato e trasfigurato per amore, compie l'opera della redenzione dal peccato, salva l'uomo e la società nel suo destino terreno ed eterno. Se accolto con fedeltà e amore ai suoi comandamenti, Gesù ci libera dall'inferno eterno e ci dona il paradiso. Ci permettiamo a questo punto di fermarci in un istante di contemplazione. Com'è il volto di Gesù? Com'è la persona di Gesù? Com'è l'aspetto interiore e fisico di Gesù? I Vangeli letti con l'intelletto d'amore permettono di intuire qualcosa, anzi confermano la profezia davidica del Salmo 44. Tu sei il più bello dei figli degli uomini. Salmo 44, 3. Santo Maso d'Aquino, il più alto maestro del cattolicesimo, nella Somma Teologie spiega che Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, l'uomo Dio, tutto uguale a noi fuorché nel peccato, poteva essere solo perfettissimo, bellissimo, affascinante nel suo aspetto interiore ed esteriore. Non c'è imperfezione, neppure fisica in Gesù, non c'è alcuna bruttezza in Gesù. Gesù è bellissimo nel suo cuore, nel suo volto, nella sua anima, nei suoi sentimenti, nel suo fisico, in tutto il suo essere. Bellissimo nella culla come bambino, nella sua casa di Nazareth, come giovane uomo. Bellissimo per le strade della sua terra, quando strappava l'ammirazione di persone incantate da lui, che al vederlo esclamavano come rapite, beato il grembo che ti ha generato e beato il seno che ti ha dato il latte, beata colei che ti fu mamma. Ancora più bello sulla croce, vestito solo di lacrime e di sangue, che dire della sua bellezza il giorno della sua risurrezione? Gesù, nostro regno per sempre, Gesù, nostro paradiso per sempre. Grazie a tutti.